Ben trovati, una bella giornata di sole, una calda e meravigliosa giornata di sole ha colto a noto il professor Timo Keinanen. Il professore finlandese si trova a noto per approfondire alcuni studi sul barocco della nostra città, non solo di noto ma della intera Sicilia. Pensate un po', il professore che solo da poco tempo è in pensione, è stato responsabile ad Helsinki del Museo dell'Architettura e si è occupato della collezione di architettura, ma è stato anche segretario scientifico dell'Istituto Finlandese a Roma. Al suo attivo anche diverse pubblicazioni e ha curato anche il padiglione finlandese in occasione di una biennale di Venezia. Ben trovato, professore. Sappiamo che lei ha un grande amore per l'architettura, lo testimoniano anche i diversi incarichi che ha avuto sino a qualche tempo fa. Ha il suo amore per l'arte, il suo amore per il Settecento, il suo amore per il barocco, in particolare il suo amore per Noto. Non è la prima volta che visito Noto, anzi è la terza volta perché mi piace tanto l'architettura barocca, la fantasiosa barocca siciliana. E adesso sono venuto anche per la Pasqua perché voi avete belle tradizioni di Pasqua in Sicilia. Professore, in questi suoi giri, lei è la seconda volta a distanza di qualche anno che ritorna a Noto, in questi suoi giri per Noto e per la Sicilia ha puntato l'attenzione sul barocco, sul Settecento, sui monumenti della città di Noto, ma anche della Sicilia. Sì, non solo barocco siciliano, ma anche naturalmente mi interessa che cosa succede oggi sulla isola di Sicilia, specialmente nel campo dell'arte. Cosa porta un cultore dell'arte finlandese a conoscere l'arte nostra, l'arte italiana? Quale amore l'ha portato qui? Ho cominciato naturalmente con barocco, specialmente barocco della Sicilia di Sud, ma adesso sono terza volta in Sicilia, anche interesse, come ho detto, per arte contemporanea mi è interessa. Lei è stato responsabile del museo, si è occupato di architettura in Finlandia, in quella città vengono ricordate delle cose, specie per quanto riguarda l'arte contemporanea di notevole interesse. Volendo fare un paragone tra l'arte finlandese e quella italiana, quali elementi emergono? La cultura finlandese naturalmente è molto più giovane della cultura siciliana e questo possiamo vedere anche nell'arte di oggi, perché le tradizioni sono importanti, ma qualche volta anche pesano. Professore, si dice da più parti che ci sono delle ferite in quasi tutti i territori, mi spiego meglio, delle ferite create dal nuovo che avanza, che non si è mai inserito e mai potrà inserirsi nel passato, nelle origini. Ferite che hanno determinato una sorta di contrasto tra la città pensata e voluta e la città che oggi, voi per la mano dell'uomo, voi anche per le modifiche apportate al territorio, hanno determinato un cambiamento. Sì, è vero, specialmente nelle città italiane vediamo questo grande contrasto con centro storico e periferie, che periferie che la qualità dell'architettura non è importante, se posso dire così. Lei, professore, ha visitato la cattedrale, ha visto anche le opere, le opere del passato, ma ci sono anche delle opere realizzate qualche anno fa. Ecco, ritorniamo alla domanda precedente, quando parlavo di opere che appartengono al 500, al 600 e al 700 con opere contemporanee. Faccio un riferimento, parlando delle opere contemporanee, alle opere del professor Elia Ligioi, come lei ben sai, come ha potuto vedere, con i pezzi di barconi, con i frammenti di barconi, di immigrati che sono arrivati, quelli che hanno avuto la fortuna di arrivare, altri non sono mai arrivati in quello che ancora oggi viene considerato l'Eden in questo viaggio della speranza, il professore con i frammenti dei barconi degli immigrati ha realizzato delle vere e proprie opere che oggi si trovano stabilmente all'interno della cattedrale. Sì, mi è piaciuto tanto vedere queste opere dell'arte contemporanea perché subito entrando nel cattedrale dà nuovi pensieri, perché le opere dell'epoca barocca sono dei santi che fanno parte del passato, ma quelle opere contemporanee dicono della nostra situazione di oggi. Fra l'altro, avendo lei una certa amicizia con il professore Ligioi, ha avuto modo di vedere la grande croce che sta realizzando proprio con i frammenti, con i pezzi dei barconi arrivati nella nostra Sicilia a Pozzallo, a Vendicari, a Pachino, a Portopalo, sta realizzando una grande croce. Una grande croce che potrebbe essere, lo sarà senz'altro una speranza per un domani diverso per queste persone, ma il professore Ligioi spera anche che dal prossimo incontro tra le potenze che ci sarà a Taormina, possa venire fuori nel nome di questa croce qualcosa di veramente positivo. Spero veramente che questa nuova opera viene conosciuta, perché il materiale della croce sono simboli della sofferenza, ma la croce nella sua forma attuale dà speranza. Un altro grande sogno del professore Ligioi è quello di vedere un giorno questa croce portata in giro per le varie città d'Italia e finire questo grande viaggio proprio a Roma in presenza di Papa Francesco. Spero veramente che succeda così, che la croce gira, che anche la gente fuori dalla Sicilia possono vederla. Io ringrazio il professor Timo Cheinanen, grazie per la sua disponibilità. Si fermerà ancora qualche giorno qui a Noto e poi in Sicilia, prima di rientrare in Finlandia, dove ad attenderlo ci saranno tantissimi impegni, sempre di natura culturale. Grazie a quanti ci avete seguito, l'appuntamento è per le prossime trasmissioni. Grazie a quanti ci avete seguito, l'appuntamento è per le prossime trasmissioni.